Guardate qui rischio di arrabbiarmi, io sono serenissimo per rispondere, non sono né disperato né confuso, serenissimo, però se qualcuno, chiunque esso sia, si permette di fare speculazione in campagna elettorale su un episodio del genere, io lo trovo miserabile, lo dico con forza, lo dico a tutti i cittadini, si può chiedere voti, si può ingrassare il consenso in tutti i modi, ma se in un episodio del genere si pensa di lucrare un consenso elettorale in una scadenza elettorale come questa, in questo modo lo trovo miserabile, ok?